Entretanto, tu riusciti alla scuola, dopo una luna di vacanze, ma inoltre c'è un mal sabore con una giornata, un po' di più, mentre passi a te nel momento di entrega e off-bentare l'uniforme. Non ti avisa che tu hai di nuovo e messo un problema che ti presenta, cammini a me separare ora all'argo del rei per il tuo uniforme di maniera con aiuto per presentare il promedio di scuola con l'uniforme nuovo. Ti spero che nel futuro sia qui, lo sia e non ti spero che il riuscita a te nel momento di fare l'uniforme di calvario.